Un gol, la Spal forse poteva farlo. Le occasioni le ha avute, soprattutto in avvio di ripresa, sullo 0-1 quando contava. Qui sbaglia Biagini, ci prova da lontanissimo Colin e segna un gol bellissimo. Un capolavoro di Colin per l'1-3, arriva il gol della bandiera, arriva 5 e mezzo dal novantesimo. Forse inutile ai fini del risultato, ma apprezziamo il gesto straordinario di Simon Colin, 3-1. E rivediamo, anche qui sente la porta.